Mister, quanta sofferenza, ma l'obiettivo è arrivato. Abbiamo sofferto, forse più del dovuto, però evidentemente da quest'anno era questo il destino. Ci siamo salvati attraverso una grandissima fase difensiva, sacrificando anche molte volte nei rientri gli attaccanti, però hanno lottato fino alla fine. Probabilmente ha pesato molto non aver chiuso la partita all'andata, perché sei occasioni fuori casa, doversi venire a giocare la partita, inconsciamente sapere che con un risultato, un pareggio, però c'è anche da dare i meriti a loro perché hanno fatto una grandissima partita, hanno sentito probabilmente meno di noi la tensione di questa partita, sono tutti ragazzi giovani, probabilmente sono entrati in campo con la mente molto libera, noi siamo entrati in campo con la mente un pochettino preoccupata e questo purtroppo alla fine ha pesato un po' sulla condizione e poi soprattutto un cambio dopo dieci minuti in una partita del genere ti condiziona. A proposito di quel cambio è stata un po' una forzatura mettere dentro Spighi che non era al 100%? A posteriori posso dire che può essere stata una forzatura, però è un giocatore di caratteristiche diverse da tutto il resto della squadra, giocando con un 4-4-2 è un giocatore che fa le due fasi, in questo momento non aveva disposizione perché l'unico giocatore che può interpretare quei ruoli in forma più offensiva è Petrella ma non è in condizioni di poter giocare un'intera partita, dispiace perché il test di stamattina era stato un test positivo, il ragazzo è molto dispiaciuto però la responsabilità è mia perché poi la scelta l'ho fatta io. Certo, e l'inserimento anche di Tempesti alla fine per cercare di avere quello spunto in controvedere che purtroppo la squadra era troppo presa dalla fase difensiva, c'era questa tensione di Lagnante. Allora hanno messo a un certo punto, non ho contato, hanno messo 5 attaccanti, è normale che hanno giocato un pochettino, giocando anche un buon calcio perché queste pale filtranti all'andata ci hanno messo in difficoltà, ci siamo preoccupati un pochettino troppo e probabilmente la gamba non ha reagito come doveva reagire, no a mettere Tempesti perché Sansovini aveva dato tutto, Barbuti era uscito, di conseguenza il ragazzino non poteva reggere il peso dell'attacco da solo Fratangelo, di consenso mi serviva un giocatore non tanto per attaccare la profondità perché avevo Fratangelo, ma per cercare di tenere palla. In alcune situazioni ci siamo riusciti, in alcune no, però vuol dire che questo era il nostro destino. Mister, complimenti per questo obiettivo centrato, il futuro cosa possiamo dire? Il futuro adesso con mio figlio e il suo amico che sono venuti a vedere la partita me ne vado a casa e poi domani sicuramente sentiremo. Hai previsto un incontro con la società? No, ma io guardo, ho trovato delle persone eccezionali, basta uno sguardo, basta, io sono contento del percorso che ho fatto, spero che loro siano contenti del lavoro, vediamo, il presidente era molto preso, teso, di conseguenza avrà moda e maniera di smaltire, penso di avergli che sia contento stasera perché questo l'ho visto molto contento di conseguenza, questo mi fa piacere. I numeri sono dalla sua parte, si poteva migliorare forse il gioco ma c'era anche l'obiettivo da centrare e c'erano dei difetti strutturali evidentemente. Ma noi abbiamo avuto un percorso altalenante perché noi siamo partiti due partite e quattro punti, poi abbiamo cambiato modo, abbiamo avuto tre sconfitte e lì potevamo abbatterci, poi abbiamo ricambiato per cercare una quadratura, abbiamo fatto quattro partite e dieci punti e poi a un certo punto è successo qualche cosa per cui la sconfitta in casa, quel gol all'ottanta quattresimo con la Reggiana ci ha un pochettino condizionato, abbiamo perso qualche pezzo perché torna a rivedere, non avere esterni di ruolo perché uno è infortunato, l'altro si è fatto male, dover cambiare continuamente modulo perché poi siamo andati a giocare col 4-3-3, questo può aver condizionato, però avevamo la salvezza a un passo, l'abbiamo buttata via nonostante di aver fatto, torna a ripetere, 14 partite e 20 punti e di conseguenza ritrovarsi dentro questo tunnel non è facile tirare sulla testa.